Grazie Presidente. Spero di avere il tempo per argomentare il mio dissenso dal gruppo su questo emendamento. Inizio da ricordare che a me sembra assurdo che siamo arrivati nel 2013 a non riuscire a programmare seriamente come devono avvenire le assunzioni nella pubblica amministrazione, così come nella scuola, così come nell'università e nella ricerca. È possibile che di anno in anno noi stiamo qui, in un Paese che dovrebbe essere civile, a risolvere i problemi che hanno creato le altre legislature, che hanno creato solo pasticci. Noi adesso veniamo da un decreto della pubblica amministrazione dove le varie legislature che si sono susseguite hanno creato 5, 6, 7 categorie di lavoratori che sono in conflitto fra loro, di cui non sappiamo chi ha più merito o meno ad assumere quel ruolo. Grazie.